Si resta ancora in attesa di risposte sulla riduzione dei treni nei giorni festivi e sul fatto che in quei giorni non c'è possibilità per i pendolari di godere di treni per poter raggiungere il posto di lavoro. Su questi argomenti è stato ed è il comitato dei pendolari presieduto da Giuseppe Malaponti a dare battaglia. Sul punto abbiamo chiesto notizie all'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone. Sulle proposte fatte dai pendolari abbiamo avuto un atteggiamento di grande coinvolgimento, abbiamo raccolto le proposte, le abbiamo fatte nostre, le abbiamo trasmesse che le ha accolte anche Trenitalia per cui nei giorni festivi oltre a garantire certamente in misura ridotta le tratte ferroviarie che vengono garantite durante le giornate feriali, proprio le giornate lavorative però addirittura abbiamo messo dei servizi aggiuntivi che hanno una finalità turistica e saranno presentati nei prossimi giorni che vanno dalla Cefalu Line, quindi che va la tratta diretta da Cefalu Sina Punta Raisi, ci sarà il Taormina Line che collegherà direttamente la stazione di Fontana Rossa per andare all'aeroporto di Fontana Rossa, ci sarà in provincia di Siracusa il Barocco Line che collegherà le due province che sono Fontana e Bianche sino a Donna Fugata, a Ragusa Donna Fugata. Quindi significa che in questa vicenda la regione siciliana sta mettendo in campo l'utilizzo delle sanzioni, cioè le sanzioni per alcuni disservizi che purtroppo ancora ci sono ma che si stanno sempre più riducendo da parte di Trenitalia vengono retrocesse al servizio della collettività siciliana, per cui noi con queste penalità diamo servizi aggiuntivi in estate raccogliendo, in questo senso abbiamo anche raccolto l'apprezzamento di tutte le associazioni dei consumatori, dei comitati pendolari ai quali abbiamo anche riconosciuto la bontà delle loro proposte.